e ciò ti bebbe la mafia sapete com'è? ecco il carciofo i fogli mi pare che sono stretti e tutte hanno una punta capongi minchia che fa un sverso un sperto un malancino ci perde i fogli fuori sapete? si possono solo perdere ma ve lo dico con il cuore in mano il cuore? no si chanel ma 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 e attivatevi Grazie a tutti